Il meteo è offerto da Centro Revisioni Florio Calandra Benvenuti al meteo di Firus TV Vediamo insieme le previsioni di domenica 18 aprile La pressione torna ad aumentare favorendo un rapido aumento delle nuvolosità Sino ad arrivare a cieli sereni già dal pomeriggio Su litorare tirrenico, cieli inizialmente molto nuvolosi Ma con ampi e veloci rasserenamenti dalla tarda mattinata fino a cieli sereni Su litorare ionico, meridionale e appennino Nubi sparse alternate e ascherite per l'intera giornata Sulle zone interne, giornata in prevalenza poco nuvolosa Salvo la presenza di nubi sparse al mattino Venti, deboli, basso tirreno da mosso a poco mosso Canale Mare di Sicilia Mossi Vediamo adesso le temperature Grazie, appuntamento al meteo di domani Grazie, appuntamento al meteo di domani